Ragazzi, buongiorno, buongiornissimo. Allora, riaccomi ritornata con un video in cui, scusatemi se non mi faccio vedere, ma ho una faccia abbastanza sconvolta dalla vita in questo momento, e ritorno con un video appunto sull'iPad, insomma, in cui vi mostrerò, diciamo, 4-5 applicazioni che utilizzo, o che comunque ho utilizzato nel corso delle mie lezioni, soprattutto da quando ho preso questo iPad, insomma. Io avevo già fatto un video sull'iPad, parlandovi un po' in generale, le capienze, eccetera. Ve lo linko poi nell'infobox. E niente, questo video è in collaborazione con Carlotta, e vi lascio appunto anche il link del suo canale nell'infobox. In questa quarantena, insomma, ho socializzato online, ecco, e ho conosciuto appunto questa ragazza stracarina che vi consiglio di andare a seguire. Lei fa giurisprudenza, e anche lei appunto nel suo video farà vedere le applicazioni che utilizza principalmente. Abbiamo constatato che comunque utilizziamo un'applicazione in comune, ecco, diciamo così. Io vi mostro un pochettino le mie applicazioni, questo è sempre il mio iPad, se prima era basic, adesso lo è ancora di più, anche abbastanza disordinato, devo dire. Però, vabbè, ho fatto anche l'aggiornamento, e quindi appunto mi è stato aggiornato così, una volta messo su piano orizzontale, con i widget qua a sinistra, insomma. La parte di sotto rimane sempre la stessa, e le applicazioni appunto ce le ho praticamente quasi tutte sulla prima pagina. Qua avevo scaricato due cose ultimamente, però vabbè, nulla di che. Una prima applicazione che ci tenevo a mostrarvi è World Office, che io fondamentalmente utilizzo praticamente sempre. Aspettate che qua mi sta aprendo 250 cose, ma ok, sono cose di cui non vi interessano. Comunque, questa è un'applicazione gratis, ovviamente io ho la tastiera, quindi non è che devo scrivere direttamente sul... Ovviamente io ho la tastiera, quindi non devo scrivere direttamente sullo schermo, e tendenzialmente appunto io prendo appunti con questa, in questo momento non ce l'ho collegata. La cosa carina è che, ovviamente voi potete prendere appunti con la tastiera, però si possono anche inserire disegni con le varie, insomma, con tutte le varie applicazioni. I layout, per esempio, a me piace mettere margini stretti sempre in una... quando si prendono appunti. Se io, per esempio, scrivo ciao... vabbè, in questo momento sto scrivendo ciao, però vedete che il margine è molto più corto, di solito io l'imposto così. E poi qua si possono aggiungere... inserisci, per esempio, anche il numero delle pagine. Insomma, questa è un'applicazione super utile, poi la cosa carina è che potete poi salvare il documento, fare insomma quello che vi pare piace, potete salvarlo in pdf, poi trasferirlo sul drive, per esempio, oppure direttamente mandarvelo, per esempio io avendo il MacBook Pro, me lo mando magari anche proprio con airdrop. Si può condividere, insomma, il materiale anche abbastanza subito. E qua ci sono vari modelli, come potete vedere di solito utilizzo sempre il documento vuoto, quindi questa è la prima applicazione che io da quando ho questo iPad utilizzo, insomma, principalmente. Al primo anno utilizzavo un'altra applicazione che si chiamava GoodNotes, di cui se non mi sbaglio vi parlerà Carlotta, perché io l'ho utilizzata solo il primo anno e poi non l'ho più utilizzata. Un'altra applicazione che però secondo me è molto carina, io la utilizzavo fino al secondo anno, se non mi sbaglio. Poi l'ho smesso. Oddio, scusatemi. Queste cose. È GoodNotes, è Notability. Allora, questa è un'applicazione a pagamento che voi trovate appunto dentro lo store di Apple. E niente, insomma, io, vabbè, l'utilizzo come bullet, diciamo così, o planner, come potete vedere. Potete creare qua a sinistra tutte le varie, cioè tutte le varie cartelle, diciamo così. Faccio vedere un sample, vediamo se riesco a farlo. Per esempio, io per aprile mi ero prefistata la pubblicazione di questi video, che poi non è andata a buon fine, eccetera. Ma vabbè, comunque, mettevo praticamente quasi sempre un video a settimana la domenica, scusatemi. Avrei voluto pubblicare tre video a settimana, cosa che poi non è successa. Poi l'ho lasciata lì, perché adesso praticamente non lo sto più montando, comunque non sto più caricando video, se non in maniera sporadica. È un'applicazione molto carina. Adesso vi faccio vedere un sample, per esempio. Facciamo creare argomento, esempio. Poi, create appunto le vostre note, ma la cosa carina è che, per esempio, potete scegliere il tipo di carta, per esempio a me piace puntini, è un po' più colorato. Potete scrivere sia il testo, oppure potete scrivere anche a mano, ok? E la cosa carina di questa penna è che è super, perché ha varie dimensioni e poi, per esempio, se utilizzate questa modalità qui, potete avere anche varie pressioni nel momento in cui scrivete, per esempio. Adesso non riesco a farlo, però spero che si sia capito il senso. E... vedete? Ecco, qua ho pigiato di meno, qua... scusatemi, qua ho pigiato di più, qua di meno. Questo è per farvi capire che è comunque un'applicazione super utile, sia per chi ama scrivere a mano, ma anche per chi, magari, non lo so, volete trasferire le slide, poi sottolineare le cose. Ci sono tutti i vari colori, sia un po' più pastello, un po' più... un po' più forti, insomma. È un'applicazione carina e la cosa anche carina è che potete registrare gli audio direttamente da qui, salvarli da qui, potete esportare, condividere in altre applicazioni il documento, insomma. Un'altra cosa che può essere abbastanza scontata, ma io l'ho utilizzata parecchio, sono le memo vocali. Ho sempre utilizzato questa applicazione quando registravo le lezioni frontali, se me la apre, vediamo, forse ce la possiamo fare. Ok, e niente, appunto, io ho sempre registrato le lezioni da qui, poi me le trasferivo su Drive, e poi, appunto, una volta trasferite su Drive, le riascoltavo, le caricavo direttamente in una cartella, insomma. L'ultima applicazione di cui volevo parlare è Forest. Allora, oddio, mi sa che vedrete tutto storto, vabbè, comunque, poi dopo lo modifico. Questa è un'applicazione che, come ben sapete, io utilizzavo spesso adesso non più, però un tempo la utilizzavo spesso, anzi, forse dovrei ritornare ad utilizzarla, perché da quando eravamo in quarantena, sì, a volte la utilizzavo, altre volte no, dipende. Comunque, è un'applicazione che vi aiuta, insomma, a mettere il timer per lo studio. C'è sull'iPad, ma, vabbè, io principalmente la utilizzo sul cellulare, se la uso, perché almeno mi permette di concentrarmi di più e di non stare sempre lì a guardare il telefono. La cosa carina è che c'è la modalità di creare sia modalità concentrazione intensiva, in cui, fondamentalmente, se voi mettete questa spunta e fate partire i minuti, quindi, se, per esempio, vi arriva un messaggio e andate a leggere il messaggio, perdete, insomma, la piantina che si sta costruendo nell'asso di tempo in cui state studiando, insomma. E poi c'è anche la modalità pianta in gruppo, in cui potete shareare, shareare non si può dire, in cui potete, comunque, creare delle sessioni di studio condivise, crea stanza, unisciti alla stanza, insomma, che ho fatto anche con voi un po' di volte. E niente, è carina perché a fine studio potete, appunto, guadagnare delle monetine e poi andare, insomma, arricchire le vostre piantine, comprare altre piantine un po' più diverse. L'ultima applicazione di cui volevo parlare è GoodNotes. Allora, GoodNotes è un'applicazione a pagamento che io utilizzo, insomma, per prendere appunti. Non so, volevo farvi vedere... Vabbè, io l'ho suddivisa, ci sono varie categorie, per esempio, prendiamo questa, che è Pediatria. Allora, io di solito scrivo, se scrivo gli appunti o slide, cose del genere, le scrivo a parte, le servo in formato PDF, per poi ritrovarmi la pagina così, quando scorro. Qua si può arricchire sottolineando, scrivendo, si può cancellare, ovviamente, sempre con la pennina, ovviamente, se non avete la pennina dell'iPad. E io mi sono trovata sempre molto bene, cioè, diciamo che di solito la utilizzo per sottolineare, poi io mi faccio gli schemi a mano, però, appunto, se voglio un punto di riferimento per far sì che io abbia tutto concentrato, tutto insieme, senza avere 250.000 fogli, per esprimere anche la carta, la stampa, eccetera, metto tutto qua tranquillamente, insomma. E la trovo molto utile. Ultimamente qua non ho messo categorie, insomma, a questi appunti, perché sono appunti che... cioè, del mio ultimo esame, quindi mi interessa relativamente metterli in categoria. Almeno ce li ho qua nella categoria proprio non categorizzata, e così almeno le trovo subito. E anche qua gli appunti, qua potete mettere le copertine, cioè, è molto, molto, molto utile, insomma, per chi studia. Onestamente, se dovessi scegliere tra GoodNotes e Notability, secondo me se la pareggiano. Soprattutto perché Notability ha la funzione dei memo vocali. Però GoodNotes, secondo me, è un po' più pratica, ecco. Perché Notability è più caena, più per fare tipo Roby da Bullet Journal, secondo me. Però sono sempre, cioè, è un mio modesto parere, ovviamente. Soprattutto perché alla fine, con i memo vocali, potete arrangiarvi, insomma. Però GoodNotes, cioè, è una di quelle applicazioni che consiglio proprio, ci sta, secondo me, a investire su questo. Io ho la versione vecchia, tra l'altro, perché non l'ho voluto aggiornare, anche perché avrei dovuto pagare. Ancora di più, ho detto, già mi sono presa due programmi diversi in cui ho pagato. Ho pagato, perché ho pagato, adesso non mi ricordo, ma comunque se non mi sbaglio, è sugli 8-9 euro. Però devo dire che li ho utilizzati, insomma, per bene. Principalmente questa è la mia funzione, insomma, di iPad quando studio. Ma alla fine io utilizzo esclusivamente l'iPad per studiare oppure per guardare Netflix, punto. Poi noi, vabbè, abbiamo il sito della nostra università in cui riascoltiamo le lezioni, a prescindere dalla quarantena, le nostre lezioni sono tutte registrate da sempre, da quando praticamente c'è questa modalità di didattica online, perché la mia università ha, appunto, altre sedi remote e loro ascoltano live praticamente da sempre le lezioni. E solo la mia sede è fisica, cioè col professore fisico. E niente, insomma, questo è un po' luto che ne faccio. Ecco, ho voluto anche farvi un po' l'aggiornamento, però come potete vedere, c'è davvero, non c'è nulla di particolare all'interno di questo iPad, insomma. E niente, spero tantissimo che questo video vi sia stato utile e fatemi sapere quali sono le vostre applicazioni per registrare. E sì, per registrare. Fatemi sapere quali sono le vostre applicazioni che utilizzate per studiare, se anche voi utilizzate GoodNotes o Notability. E niente, ovviamente vi invito di nuovo ad andare, appunto, a vedere il video di Carlotta. E niente, ragazzuali, io non so minimamente quando caricherò i prossimi video. Ve lo dico già, perché purtroppo sono in una situazione in cui sono legata fino al collo con l'università. Ho veramente tantissime cose da fare. Ci siamo tenute tantissimo compagnia durante, appunto, la quarantena. Però, cioè, insomma, tornerò, però, sporadicamente, ecco. E niente, con questo io vi mando un bacio e noi ci vedremo. Ci vedremo, tranquille che ci vedremo. Ciao!